Tu ieri hai fatto una foto con Salvini e sei d'accordo con lui che qui c'è bisogno di... Un po' di lavoro, sì. Un po' di intervento, tu mi hai raccontato che qui le strade di solito erano piene... Sì, di spacciatori, di tanti casini qua, capisci? Mi hai ragione. Vogliamo che ci rimane questo lavoro così almeno si è migliorato un po', che anche i clienti qua non vengano più, la coppa di queste gente che rimangono sempre qua. Cioè tu dici che hanno paura a venire nel tuo locale perché di fianco ci sono traffici strani, questo ho capito. E quindi lui ha bisogno che venga bonificata un po' la zona.